buongiorno a tutti e benenni lo so ed è un grande piacere che l'assemblea mi ha veramente toccato mi ha emozionato poi te entri in ogni assemblea posso abitare subito dei te dei te succedenti e ho appacciappato un montone gente che vi ritirava delusa e se ne percepisce delle intimità profonde e tutti quei vecchi amici che hanno fatto in noi perché si fiuta da lontano il profumo inebriante della battaglia e quindi noi siamo tornati pronti in noi e non l'ho percepita solo io ma ho un montone gente che ho appoggiato e succedendo che cosa che è 70 anni che non succede che siamo 20 anni battagliendo può lavorare, concretizzare solo ad appare la capacità tattica e strategica di creare una separazione, un processo di separazione dinamica tra il vecchio sistema di potere proveniente da Roma e la costruzione di un'alternativa che proviene dalla Sardegna culto e succedente, da una parte bisogna sponsorizzare dalla classe politica e dagli interessi italiani che non sono sovrappolibili ai nostri e in noi finalmente cominciare un nuovo processo che ci vede impegnati tutti devono essere coinvolti da esazilo a università che tu ci percepi, si tocca da, è viva questa cosa esatto è una cosa, chi si deve e chi ha femmina un montone di gente a me mi hanno nato, non che botti da enere però come noi siamo collegati con questa tecnologia sono in mezzo che non sono in mezzo non siamo solo 200 persone che sono vedi da ogni parte della Sardegna che c'è cosa che succede e che succede esattamente questa cosa è femmina è femmina è femmina guai a noi se lo amo femmina guai è una vita misera è le ianas fin femmina la tua madre è femmina il potere del nurag perché tutta la grande sorganizzazione Ugas millivaginas allievo di professor Lilliu si trasmette da è femmina a femmina è le onore d'arborea all'articolo 25 chi è d'occada femmina che non chiede è pizzino minore che venga sgarrettato che zoppichi e che si veda anche gli ultimi banditti che hanno intervistato che hanno chiesto ma è pizzino se femmina no questo non si dà è vietato poi legge ora la cultura nostra la possiamo proiettare in tutto il mondo la nostra cultura ha prodotto questo e femmina saldaza non si poten toccare anzi si non si deve ne toccare si fiuta va da una teoria scientifica che si narra da la spirale del silenzio che ha da validità soggettiva e collettiva e te con la spirale del silenzio che entriamo in crisi e cominciamo a cavallare a fondo a fondo a fondo a fondo a fondo vincere a toccare la terra e come? interessa da una e una sola via riprendere quella spirale e navigare a subra e il gusto è succedente e si intende e si percepisce ovunque che cosa è succedente con un po' questo è che a me con il disegnare con l'assemblea e dovevamo coinvolgere tutto in questa operazione da esasilo vincere la sua università a sasola non lo facciamo dovevamo ponere in moto questo cerchio concentrico ma poi ho dato qualche appunto ma non so non lo facciamo ciclo 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 di vent'anni ciclo di vent'anni è una maledizione questo ciclo di vent'anni urbi devemo studiare subito tutti i purplini o il vecchio o una raiada riusciamo a controllarli per vent'anni e poi diventano feroci e indisciplinati e feroci infatti ma una volta non è guerra si può provare a non dominare e non abbiamo fatto perché noi siamo così non esistiti deviamo vincere il nostro destino storico andare in questa direzione in questo mondo che ci avvolge non l'ha stata indifferente non toccala direttamente si manifestava l'allucinazione di questo mondo che è tra grande guerra che è fatta i dinari solo a bocchire o è l'attività che rende di più è uccidere uomini a beneficio di pochissime elite al mondo e noi secondo chi siamo? con cui siamo? siamo? un mondo più giusto più bello più meraviglioso e con cui siamo? in questo mondo e creano la nostra infelicità felicità devo con cui devo evitare e noi in Europa chi siamo? deviamo usare una pretesa una sfida che tutti noi tutti un pare deviamo comunicare al mondo chi si isola un pare a soccorso al centro del Mediterraneo se si perimenta una nuova forma di esistenza una forma un altro modo di rapporto tra uomo e animali tra uomo e natura alla ricerca di cui noi generiamo su la felicità umana e la deviamo sperimentare in noi tanto a noi non la dà nessuno ma si ha tutto il gusto del sistema del potere stabilizzato in noi è una alternativa al sistema di potere che ci ha aggiunto fino al fondo di una spirale del silenzio è scientifica un luogo un luogo un luogo sperimentale un luogo sperimentale sì grazie siamo in condizione della vagare una barbarità dei denari 9 miliardi e mezzo che secondo che viene a governare noi siamo finiti quindi è doveroso alleare in mano questa situazione è doveroso abbinchere e dovremmo segare noi siamo più sul giocattolo di questi capricciosi che erano venire a saccheggiare ma io ho un pezzo di carta dai a noi autodeterminazione autoscelta e un'altra sensazione che mi sono dimenticato è che tutti noi ognuno prima di questo momento suona da un strumento un po' fatto suo senza coordinazione e questo vede semplicemente che il rumore mentre noi stiamo costruendo il nuovo spartito in e a Savinia da cominciare una musica coinvolgente che non torna a dare felicità possibilità di vivere al mondo desiderare tutti i problemi che noi abbiamo e imparare come si vive davvero la sovatenne troppo lunga e che stiamo arrivando poi ci sono 20 anni e persone che non vogliono di vivere e quindi necessitiamo una rievoluzione e andiamo a vincere grazie 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 a